Il moderatore Bernardino, un incontro storico e anche significativo, quanto lo è stato per le chiese metodiste valdesi italiane? Questo ce lo diranno le nostre chiese nella loro libertà di espressione, nei vari mezzi di comunicazione che abbiamo e anche, penso, alla prossima assemblea sinodale. Io avevo detto che noi avremmo cercato di avere un incontro in cui saremmo stati noi stessi, in cui avremmo incontrato Papa Francesco nel quadro di una nostra chiesa, nella semplicità delle nostre chiese, con i nostri canti, con il nostro modo di fare. Io credo anche di aver espresso al Papa, nei limiti del tempo, che questo incontro ha avuto non soltanto i motivi già di piena comunione che ci sono tra le nostre chiese, ma anche dei temi sui quali bisogna ricercare con più coraggio una strada. Quindi, dal mio punto di vista, lo ritengo soddisfacente. C'è stata una pluralità anche di saluti che ha voluto dimostrare la comunione delle nostre chiese anche dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, con anche la componente metodista, insomma, la nostra già diversità che abbiamo al nostro interno. E devo dire che il Papa ci ha risposto con il suo solito linguaggio a cui ci abituati, diretto, semplice, dicendo alcune cose importanti, tipo la richiesta di perdono alla maniera sua, cioè come una persona consapevole di quello che è accaduto e che anche se non si può cambiare, però dirla quella parola non è come non dirla. È un fatto, credo, dal quale non si potrà tornare indietro. Infatti è stato un incontro molto franco. All'interno delle chiese valdesi c'era un dibattito precedente, se fossimo ancora riformati o meno con questo incontro. Dopo questo incontro, adesso lo siamo ancora? Ci sono molti motivi per porsi questa domanda, sempre. Prima di questo incontro, dopo questo incontro, ma anche senza questo incontro. In fondo, capire chi siamo, se siamo ancora evangelici, se le caratteristiche di una chiesa evangelica sono ancora presenti o no nelle nostre comunità reali e non soltanto nel nostro ideale. e fa parte della verifica di autocoscienza che ci dobbiamo fare regolarmente. Questo incontro non credo, io non ho mai creduto che potesse essere pericoloso. Perché? Perché francamente noi non siamo abituati a cedere, a conformarci. bisogna, in fondo, incontrare anche quelle istituzioni, come è la chiesa cattolica, con le quali di fatto abbiamo anche molti rapporti, molte collaborazioni, c'è un dialogo. Fino adesso non c'è stata la condizione per un incontro con il Papa, che rappresenta la comunione mondiale della chiesa cattolica. Noi abbiamo pensato, e noi intendo, la tavola valdese prima di tutto, ma in condivisione con gli altri organi di direzione che Sinodo ha eletto l'anno scorso, abbiamo fatto una riflessione comune e abbiamo pensato che poteva essere giunto il momento, naturalmente, alle nostre condizioni, che sono quelle che si è potuto vedere oggi anche nella diretta televisiva. Sincerità, fraternità, dialogo, pluralità delle presenze, naturalmente in un contesto di 45 minuti e anche di una visita a Torino intensissima di Papa Francesco. Si è emozionato? Beh, certamente incontri come questi emozionano perché ci si rende conto anche della responsabilità di rappresentare non soltanto me stesso, noi stessi, ma in fondo tramite me. Io dovevo comunicare non solo al Papa, che in realtà già aveva una percezione corretta di noi, ma a suo seguito, per esempio, e soprattutto a chi ci ha potuti seguire in televisione. E quindi, naturalmente, quando si ha una responsabilità di questo tipo, ma insieme anche con le altre persone che erano qui presenti, il presidente del concistoro della Chiesa Valdese di Torino, il pastore titolare di Torino, il moderator, che è venuto appositamente da Montevideo e anche con la Presidente del Comitato Permanente delle Chiese Metodiste, sentivamo un po' tutti che avevamo questa responsabilità comune. Preparerete un nuovo incontro per il 2017? Vediamo. Per il 2017 dovremmo fare varie cose, perché è una memoria da mantenere viva, quella della riforma, naturalmente, come lo faremo nel 2017, cioè 500 anni dopo, per non ripetere il clima che c'era in quegli anni, 500 anni fa. Oggi c'è un clima diverso e questa è la nostra responsabilità, riconoscere che oggi c'è un clima diverso e quindi rendere conto del nostro essere evangelici nel 2017 e non nel 1517.